E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale finalmente, ci siamo, ci siamo col colpo a paleto, dopo la preparazione, dopo la serie degli assassini, ce l'abbiamo fatta, a raggiungere questo punto della storia, la preparazione ragazzi in realtà è stata una missione sola, la dotazione militare, un camioncino rubato easy easy, quindi approfittiamone e andiamo subito a giocare questo colpo. Like, iscrizione, condivisione, commento, tutto quanto, e andiamo al colpo a paleto per PS5 per la prima volta, dai! Ok, ce l'avevamo lasciati qua, che tipo in coda all'episodio scorso ho sparato a un cane, anche se attacco il doggo alla fisicità di un tricheco. Andiamo Nel nostro ufficio di Trevor C'è anche un kit medico qua, se non vado erato, esatto Sì, devi prendere il kit medico Oh Che già tipo ci andiamo senza giubbotto A noi ci piace il pericolo E niente, timelapse Il giorno dopo Cazzo, ora ne ha 66 nel 2022 Cazzo, ora ne vediamo Cazzo, ora ne vediamo Cazzo 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 Un po' Ora Sì Precciatine Perfetto Ok lunghissimo viaggio fino a Palito Bay Sono 6 km ma con questo furgone Percepiti 15 Nooo Adesso 35 34 Pardon Sì 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 Speriamo di avere un po' di grana in tasca soprattutto con Franklin dopo sto colpo È un importante momento Comunque questo colpo sarà spettacolarissimo sicuramente va beh lo conoscete Però le minigun cioè Mitragliatori Vedrete 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 E questo è il motivo per cui non ci troviamo notte E questo è il motivo per cui non ci troviamo notte E questo è il motivo per cui non ci troviamo persone che conosci Ha 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 Share Sì come on kid What the fuck What the fuck What the fuck All right man shit Ok This score was like two stacks man 2G Take home on your first kick Beh Rischiai la vita per 2.000 dollari Cioè se povero povero Cioè se povero povero Ow Come on Ha 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 That would be so cool man Learn to laugh at yourself You're in danger of turning into this man Oh Me? Yeah You Wouldn't laugh, wouldn't hang out Ugh It's not my work It's not my life It's not my life And never let you tell me All right Frank Why don't you laugh We're gonna drop Trebole è molto stronzo ma Okay You hear kick off Get ready Nel Deep del Deep Ha ragione Cioè per me tra i tre Michael è forse quello più stronzo Più ingannevole Più Forse Il fatto di Amanda Ci Distoglie un po' Da quello che veramente Michael è Principalmente Mi tocca dirlo un imbroglione Però se si leggono i dialoghi soprattutto In questa Parte della storia La cosa si capisce molto molto bene Comunque ci siamo Mg Va a combattimento Si Comunque è questo colpo che dovrebbe essere quello con i mitagliatori se non vado errato E' uno di due mani, amici Tutti sull'interno Ora Tu e tu Fuori dall'interno Allora E' tutto La mano in l'aria Em Bravo pensaci tu di Vai Mi dici di selezionare uno Poi l'altro Grande Vabbè Stiamo a rubare i soldi Ah si ricordano ancora il falso allarme Dell'ispezione Che come vi cagate addosso però 5 milioni buono 7 8 milioni è il massimo E' un po' di giubbotto antitoiettile Non lo so 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 E' Ma Parliamo Come Gento E' E' Ooooo Succhi Madaglia Succhi E' Era da GTA San Andreas che non si vedeva Quest'arma qui C'è anche un po' di giubbotto antitoiettile Cogliettile Ehi che fai C'è anche un po' di giubbotto antitoiettile E' un po' di giubbotto antitoiettile E' un po' di giubbotto antitoiettile Via Via di culo Via di culo Via di culo Un altro Via un altro Via un altro Via 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 Trevor dove sei Qua dentro Ok non è velocissimo posso capire Via 1800 Perfetto Visto Allora Cerchiamo di far scendere il bottino ovviamente il meno possibile Menomale non sono saltati in aria loro Questi sono blindati però questo può saltare in aria Via Ok fuori un altro Fuori Fuori Via la macchina Via un'altra Ho sempre 8 milioni e 10, va benissimo Fuori Fuori Ancora 3000 colpi, dai ci sta Forse questo ha bisogno di più Questa parte ha bisogno più di uno che Ce la mira a modo Wow Il grandissimo Franklin 400 metri Tipo sarà una vita Con questo coso qua Ok ti abbiamo premuto X che si abbassa Mi fanno a sapere che Franklin fa parte del colpo Perderò un casino di vita qua Siamo scesi sotto gli 8 milioni Non va bene Non so quanti colpi a testa dovevo fare che non ho fatto Ma chi c'ha tutti i soldi lui Abbassati, 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 abbassati Il nostro tax Cazzo È vero, ora c'è da prendere il treno tipo Non ce l'ha fatta, era una canonata sulla grata Grazie A posto Dai 7 milioni e 9 Ci può stare Ok qua dentro però non dovrebbe esserci nessuno Invece mi sbaglio Fuori dai coglioni Peccato perché prima che appendesse Franklin Praticamente i soldi non se ne erano persi Invece Ho finalmente qualcuno che ammazza la gente Qualche compagno di squadra utile Bello Due piccioni con una fama Ok Bene te Intanto chi sono? Sono Michael Ok Sì perché Travel ha la mitragliatrice Mitragliatore Chiamatelo come volete Fuori altri Granata Cerchiamo di salire sul treno Cosa che in realtà dovremmo fare in questa missione In realtà non abbiamo perso neanche tanta vita a dir la verità Via Via Pippo la testa Oh vabbè non li abbiamo uccisi tutti Speriamo non ci tolgano punti della medaglia per questo Ok dai È andata Easy easy I'm a front lead Agent Sanchez Our very own corrupt G-man in training You gotta be careful buddy alright Because they are looking around these trains for illegals And if you're mistaken You'll be shot amigo Very amusing Yeah If you're expecting them two to bring you up You're gonna be disappointed homie Right back at ya Got the money Everything we got Ok Here's your cut Considering present scrutiny On public worker remunerate Ma che cazzo This is a big win Oh yeah It's a huge fucking win Woo Monster I'm out Agent Haynes will get in touch with you once operation save the world's ago Get your crew together ok Fucking punk All right Ma neanche centomila ci sono arrivati Oh the blood we spill for the security of this country Come on Franklin Man I'll let you home Come on Si bello Serious? Franklin e Trevor che vanno di insieme Bellissimo Quindi non si possono prendere Colpa a paleto 75% Dai ci sta 2590 colpi 400.000 a testa Poteva in effetti fare di più Però vabbè Ragazzi io qua vi saluto allora Prendiamoci da bere E quasi quasi me lo vado a prendere anch'io qua in cucina Anzi no Mi sa che me lo vado a prendere in cucina e basta Io vi saluto Like al video Iscrivetevi al canale Ci vediamo per la prossima missione Dove ricominceremo la marcia normale Fuori dai colpi Ed Adria ancora Un ringraziamento E un saluto E un saluto Le show